Quali sono le marche più importanti e più utilizzate nel Trottarea? Sono due nuovi spoon, il Gigaburst e l'Astart, che sono due artificiali caratterizzati da avere diverse caratteristiche ma per essere utilizzati durante le stesse fasi di pesca, cioè nel momento in cui abbiamo pesce caratterizzato da avere un'altissima attività come nei momenti nel quale viene rilasciato o quella che viene definita la fase di partenza di gara. Il Gigaburst è un artificiale dal peso di 2,8 grammi caratterizzato da avere una foglia molto alpia, questo gli consente di avere un wobbling veramente molto accentuato. Nasce per il pesce di nuovo in missione e per le fasi di partenza di gara e esprime il suo meglio nel momento in cui le trotte attaccano l'artificiale sentendo la vibrazione. Il corpo di questo spoon è fatto per permettere alle trotte di percepire una fortissima vibrazione ed attaccare l'artificiale. Si consiglia l'utilizzo del Gigaburst soprattutto in situazioni di acqua velata o in situazioni nella quale il pesce ha una forte attrazione per quello che riguarda la vibrazione in generale. Astart nasce da uno dei pro staff di Valken che è Tor Arakawa, definito Speedstar, è un vero e proprio campione per quello che riguarda il momento in cui il pesce viene immesso e uno dei pescatori più veloci in Giappone. Disegna questo artificiale caratterizzato da un wobbling stretto e molto rapido che permette di attirare le trotte specialmente per quello che riguarda un impatto visivo. Le trotte vedranno l'artificiale e attaccheranno lo stesso da dietro consentendo un hookset molto performante e un'estrema rapidità in quello che è il recupero dell'artificiale con il pesce agganciato. Si consiglia di utilizzare l'Astart che è del peso di 2,4 grammi specialmente in situazioni nella quale abbiamo pesce molto attivo in acqua limpida poiché il massimo della sua attrattività è proprio data dall'impatto visivo dell'artificiale stesso. Astart e Gigaburst sono due varianti da utilizzare nello stesso momento ed è proprio la scelta dell'artificiale che potrà condizionare al meglio la nostra pescata. Tenere conto di certe variabili e conoscere una struttura potrà trasformare una giornata infruttuosa in una ricca di catture. Provateli e vi divertirete. Una delle novità principali di quest'anno è che Valken finalmente ha creato quello che è un Metal Vibe, il primo all'interno della linea di prodotti di questo marchio e nasce quindi il Valsinium che si caratterizza da essere un artificiale estremamente piccolo e del peso di 2,8 grammi. La prima caratteristica del Valsinium è quella di avere rispetto agli altri Vibration Lure, rispetto agli altri Metal Vibe di avere una distribuzione del peso centrale e non in punta. Questo consente all'artificiale che si trova sia fuori che dentro l'acqua di mantenere un assetto perfettamente orizzontale riducendo anche del 70% l'incaglio con l'amo che è molto frequente quando si utilizzano questa tipologia di artificiali. È caratterizzato da avere due inneschi differenti, un innesco frontale molto più congegnevole per quello che riguarda i recuperi a shaking, quindi a piccoli twitch sul fondale e per quello che riguarda i recuperi di trascinamento sul fondo. Ha invece un secondo innesco in posizione centrale per quello che riguarda i recuperi a bottom bumping e a recupero digitale. È un'esca estremamente duttile ed estremamente divertente che è arrivata sul mercato da pochissime settimane e è già stata utilizzata dagli agonisti con ottimi risultati e si è vista già montata sulle canne in alcune finali di diverse competizioni. Il nuovissimo crankbait medium running di Vulcan è il nuovo AIDS. Come medium running si caratterizza davvero una polivalenza di utilizzo estrema. Andiamo a utilizzare questo crank dalla forma molto ridotta ma in grado di generare tantissime vibrazioni quando ci troviamo a dover stimolare del pesce che non è più ben disposto ad attaccare gli spuni. L'AIDS può essere utilizzato con diverse inclinazioni della canna e va a rispondere a diverse altezze mantenendo un'estrema stabilità sia nei recuperi più lenti che in quelli più veloci. Se utilizzato con la canna rivolta verso l'alto questo piccolo crank lavorerà a 30 cm sotto il pelo dell'acqua. Utilizzato invece in ginocchio con la canna inserita dentro l'acqua potremmo far raggiungere al nostro piccolo crank anche la profondità di 1,20 m. Una nuova alternativa da utilizzare in aggiunta a quello che era il famosissimo crankbait medium running di Vulcan, il Kuga FMR che potrà essere utilizzata sia in contesti agonistici che durante le sessioni di pesca per divertirsi. T3 Distribution in collaborazione con Vulcan International quest'anno ha deciso di creare una linea di colori dedicata a quelli che sono i Trautaria Shop italiani. Questa linea chiamata Red Sticker è composta da diverse colorazioni su diverse tipologie di artificiali. Nasce partendo da sei differenti colori che sono disponibili in diversi spoon e darbait ma si va poi ad ampliare con tutta una serie di prodotti e di colorazioni che sono studiate e concepite principalmente per l'uso agonistico. Avremo infatti colorazioni molto naturali unite anche a diversi prodotti più sgargianti da utilizzare sia in acqua velata che in acqua limpida. Una serie di prodotti unici costruiti dagli agonisti italiani per le acque italiane. Grazie. 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 Grazie.